Ciao cari amici, abbonati e ospiti del mio canale, sono Liuba of Eneusle e questo è il mio servizio di moda. Oggi vi presento delle borse in feltro, con simpatiche applicazioni. Ogni borsa è come un quadro d'artista che attira la vostra attenzione e vi fa venire voglia di guardarla ancora e ancora. L'applicazione di borse in feltro è una tecnica decorativa in cui le fibre di lana vengono attaccate a una base per creare un motivo. Questa tecnica apre infinite possibilità in termini di design e personalizzazione. I produttori di feltro possono aggiungere i loro motivi preferiti, i disegni o le iniziali alle loro borse, rendendole uniche e irripetibili. Questa personalizzazione non solo aggiunge un tocco estetico alla borsa, ma la rende anche significativa e speciale. Le borse in feltro con applicazioni non sono solo carine e graziose, ma anche pratiche grazie alla loro durata e resistenza. Durante il processo di infeltrimento, le fibre di lana vengono annodate tra loro, creando un materiale denso e resistente. Questo rende le borse non solo durevoli, ma anche resistenti all'acqua e alle macchie. Questo le rende ideali per l'uso quotidiano, soprattutto per gli oggetti che necessitano di maggiore protezione, come i dispositivi elettronici o i libri. Inoltre, le borse in feltro mantengono la loro forma anche quando sono vuote, rendendole una scelta affidabile e pratica per l'uso quotidiano. Uno dei vantaggi più importanti delle borse in feltro con applicazioni è la possibilità di personalizzarle. Molti maestri del feltro offrono un'ampia gamma di borse e vi danno la possibilità di ordinare la borsa più adatta ai vostri gusti e al vostro stile. Le borse in feltro con applicazioni sono inoltre attraenti e uniche e rappresentano un accessorio alla moda per qualsiasi abbigliamento. La combinazione di lana in feltrita e applicazioni aggiunge consistenza e interesse visivo. Le applicazioni possono essere realizzate in materiali diversi, come cotone, seta o persino pelle e pelliccia, per conferire alla borsa un fascino visivo particolare. L'estetica unica delle borse in feltro con applicazioni le rende un vero e proprio richiamo visivo, in quanto si distinguono dai soliti prodotti di massa. Le borse con applicazioni in feltro sono la combinazione perfetta di praticità e attrattiva. La longevità e la resistenza delle borse in feltro le rendono un buon investimento, mentre la personalizzazione con applicazioni crea un'estetica unica e accattivante. Che siate alla ricerca di un accessorio elegante o di una borsa funzionale per tutti i giorni, le borse in feltro con applicazioni sono un'ottima scelta. Perché non aggiungere una di queste borse alla vostra collezione? Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, se non l'avete ancora fatto. Sul mio canale vedrete molte altre storie di moda su cose interessanti e di tendenza. Date anche un'occhiata a ciò che creo con le mie mani. Lavoro all'uncinetto, abiti e camicette nello stile del pizzo irlandese, cucio giacche, cappotti e gilet. Divertitevi a navigare! Grazie! 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 Grazie!